La chiesa del Porto a Pesaro non ce l'ha fatta a contenere tutta la folla che questo pomeriggio ha voluto tributare l'ultimo saluto ad uno dei mostri sacri del motociclismo nazionale e che ha recitato un ruolo da protagonista assoluto a livello mondiale. Morbidelli se n'è andato lunedì scorso all'ospedale di Fano dopo una lunga malattia, lui che ha lottato una vita con i suoi marchi e le sue moto contro i giganti del motociclismo mondiale, spesso dettando legge. Questa gara invece non è riuscita a vincerla. Al suo funerale, celebrato da Don Marco Franceschini, sono arrivate oltre 400 persone da ogni parte d'Italia, tutta gente legata al motociclismo e anche i campioni che hanno legato la loro carriera e i loro successi al marchio pesarese. Eugenio Lazzarini, tre volte irridato, Mario Lega, altro campione del mondo, l'ingegner Jorgen Müller che ricorda le notti insonni per battere con la 500 i cinesi di allora. Di lui, amico anche di Enzo Ferrari, tutti ricordano la semplicità e l'umiltà di quest'uomo innamorato dei motori e il suo l'auto umano che ha segnato profondamente ogni persona che ha lavorato con lui in momenti in cui era veramente difficile per la scarsessa di mezzi emergere, ma che il suo genio invece ha saputo compensare. Anche il sindaco di Pesaro, Matteo Ricci, da sempre appassionato di motori, non è voluto mancare al suo funerale. Toccante il ricordo del figlio Gianni, ex pilota di Formula 1 con Ferrari, Minardi, Alfa Romeo che lo ha definito l'artista della meccanica. Morbidelli è stato otto volte campione del mondo, quattro come costruttore e altre quattro volte con i suoi piloti a cavallo delle sue moto nelle classi 125 e 250. Anche Graziano Rossi, papà di Valentino, è stato un suo pilota nel 1979, proprio l'anno in cui nacque Valentino. Rimane però il dispiacere in molti appassionati per il suo immenso tesoro di moto, purtroppo in parte volato in Inghilterra e custodito fino alla scorsa primavera nei locali che ospitarono la sua fabbrica e il reparto corse.